Siamo qui su Fornitio Cipor Capitana E andiamo, siamo tutti in a... Abbassiamo il fuoco E' bambi E' anche un'altra cosa Zicca, che cazzo qua Mi vai padre Vabbè, andiamo a giocare, se... Ma come si fa anche PS, bro? Ma no ma raga ma perché ma perché gli fps sono così bassi quando registra sono bassissimi quando registra ma te pareva te pareva te pareva te pareva vabbè ho dovuto mettere robo al minimo quando registra anche se il monitor ora questo qualche ora è 4k l'acqua botto cristo se lagga ok devo fare tutte le robe un po più allora nello shop fa questa cacata qui questa cacata qui nello shop portati a caso boh con francesco aspetti vediamo se c'è francesco non lo so perché io ancora non ce l'ho aspettate secondo me non ce l'ha perché minimo stai avendo gli iscritti no raga what the fuck che cazzo vabbè andiamo ovviamente modalità di gioco singolo no non ci mettiamo che cazzo che cazzo cazzo knock out marvel bah io boh non cos'è sto cacato vabbè secondo me è una cacata incredibile ma che ah ma ci sono tipo i cucchi di marvel qui oh ma che figato ma scusi è italiano scusi 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 italiano scusi ma vabbè ora andiamo secondo me non era italiano raga eh non vorrei dire cioè sono Voldemort Vold no non sono Voldemort volte morti aspetti 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 in basso disegno vabbè 100 pps almeno adesso allora quindi si fa vita aspetta fammi se no ok non so se cazzo dai non so se cazzo cosa so vabbè andiamo non so se cazzo vabbè figo figissimo ecco un tizio sono forte wolverine ancora di più ma ne vero ma ne vero avevo più cazzo sei sentito dai non però non posso il cazzo ma stare giustando se non ho caso ma fa un registro ok no perchè ho detto perchè ho detto orchi giurta pieno eeeh ma che segui da safe raga dopo shoffiamo qualcosa no dammi in to pronto ma ma e laga e che laga e che laga L'abbiamo Ai L'abbiamo 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 Ragazzi Ci dobbiamo fare Nalmeno 2 guild 3 In azione salvata Ah salva di warrior Crying No ragazzi Crying Wolverine No che cazzo fa? Eeeh vabbè Dopo chi c'è Ci Cristo Eeeh vabbè Eeeh vabbè No raga Dopo c'è Gesù Cristo qui Eeeh E dai Adesso Abbiiiiini 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 Eeeh Eeeh Eccoli Eeeh 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 Incredibilu Vorrei precisare che è Iron Man C'è un tonino di merda Cristo Dio che milino Raga c'è un milino da far schifo Raga c'è un milino da far schifo Raga c'è un milino da far schifo Ma che cazzo lei Di Dottor Doom Ma che cazzo lei Mi piacere l'anno Ma con la Ma con la Cazzo E' morto E' morto E' morto E' morto No raga sono troppo forti Poi faccio anch'io cacare E' morto E' morto Da gli amici Fate qualcosa Io non faccio il cazzo però Lo fumo Guarda lo fumo Cristo Mori Mori strozzo Mori No cazzo la Fori sempre No fori sempre Ti prego Mori Ragazzi Ragazzi io non so giocare Ragazzi io non so giocare Non so giocare E' un medibile Non so giocare E' un medibile E' un medibile Ma E' un medibile Ma E' un medibile non più però l'importante era far una clip però spesso a beni a beni basti stronzo di andro cazzo adesso cazzo e parto in queste partono questa con ti accetta cazzo non vanno vedere ma che cazzo vabbè facciamo l'auto quando torniamo alla lobby e porca puttana siamo morti come dei coglioni ok aspetta ma ho detto che prima c'ho un po' qualcosa quindi porca puttana andiamo negozi oggetti ci scegliamo le 3 2 1 con il codice porta creatore per spettare no l'insegna quello giusto scusato però gamer ma non l'ha inserito fidate mi metto un codice a caso ok sciopiamo e andiamo ma vediamo ok lasciamo che possiamo Allora Detto questo ragazzi Direi che è tutto E vabbè Aspettate Porca troia Il programma è bello